Questo video riguarda i migliori tre rilevatori di monossido di carbonio. Il vincitore della qualità è il decimo sense rievatore. Un rilevatore protegge sia dal fumo pericoloso che dal monossido di carbonio nell'aria circostante, rileva esattamente coda potenziali fonti. Dieci anni di funzionamento a batteria litio sigillata consente al dispositivo di monitorare la vostra casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di mantenere voi e la vostra famiglia sicuri e sani fino a un decennio senza frequenti sostituzione della batteria. Mostra chiaramente i valori di cointempo reale oltre 30 ppm dall'aria circostante e lo stato della batteria del rilevatore. Risposta rapida ai pericoli con allarme da 85 decibel, tida il primo avviso possibile di fumo eco, sia con un allarme forte da 85 decibel e una luce di stato a led rossa lampeggiante. L'unità alimentata a batteria si installa rapidamente e facilmente senza elettricista. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il decimo Sense C03D. Grazie ad un innovativo sensore elettrochimico COE e ad un chip ST estremamente performante, il rilevatore di monossido di carbonio X-Sense rileva in modo istantaneo ed ha curato i livelli pericolosi di COE, fornendo il prima possibile un'allerta di rischio di COE con un potente allarme di 85 decibel. Alimentato da tre batterie sostituibili a 1,5 V, con un sensore dalla durata di 10 anni, questo rilevatore di COE fornisce la migliore protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante le interruzioni elettriche. Non dovrete più preoccuparvi di cavi o prese elettriche, poiché il nostro rilevatore COE batteria è dotato di viti e tasselli, per poter essere installato facilmente ovunque. Il dispositivo mostra in modo chiaro la durata della batteria e di livelli di COE rilevati nell'area circostante in tempo reale, con una misurazione aggiornata ogni 10 secondi. Il prodotto è coperto da tre anni di garanzia e da un supporto clienti a vita con un tempo di risposta di 24 ore. Il vincitore del premio è l'Eyman rilevatore. Il sensore all'avanguardia di questo rilevatore di COE si combina con un sensore elettrochimico avanzato di alta qualità e una tecnologia digitale di compensazione. Questo allarme di monossido di carbonio è dotato di batteria A da 2 asterisco 1,5 V per una durata fino a 5 anni, speciale design a prova di manomissione della batteria, non è possibile installare il rilevatore senza batteria, altro sicuro. Questo dispositivo di allarme per monossido di carbonio è dotato di un ampio display LCD che mostra i livelli di COE. Certificazione professionale in 50291 sensore elettrochimico di elevata affidabilità, che rileva efficacemente il monossido di carbonio in colore, in odore, in sapore e mortale. Queri di livello massimo, funzione di autotest, indicatore di controllo guasti automatico, avviso di batteria scarica. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.